E allora ok 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 ci siamo bentornati in questa nuova live, non video oggi, live, orario un po' particolare perché di solito sapete che tendo a farle alle 20.45, volevo provare un orario un po' diverso, ne ho approfittato visto che stasera ho anche un impegno, quindi in realtà l'ho anticipata, vediamo un po' come va, se vi piace questo orario potremmo tenerlo per qualche live infrasettimanale, mentre per le live nel weekend solitamente tendo a farle di domenica, potrebbe essere interessante mantenere alle 20.45 però appunto è un'idea, ci proviamo, vediamo un po' come va. Come sempre se mi state guardando su youtube vi invito a mettere sempre un bel mi piace sotto i contenuti perché mi state aiutando veramente tanto con l'algoritmo, stiamo crescendo veramente in maniera incredibile e vogliamo continuare a crescere così, è il modo che avete per darmi anche una mano insomma a divulgare in maniera gratuita queste informazioni, mi fa piacere appunto che ci sia coinvolgimento appunto mi dato da forza e continuare a fare questi contenuti, come sempre iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto con un bel clic sulla campanellina e partiamo, partiamo. Voglio partire, prima di passare alle vostre domande sapete benissimo come è il formato delle live, ovvero non è un mio monologo, se no vi farei un bel video, però in realtà la live serve per appunto approfondire insieme alcuni concetti, poter rispondere alle vostre domande in maniera on time, quindi vedere insieme anche le alz, vedere appunto quello che state osservando anche voi e avere anche un modo di confronto, vorrei partire però prima con questa news che forse ne avete già sentito parlare oggi, però veramente ragazzi estrema attenzione perché di progetti ce ne sono una marea. Ora, sta andando di moda molto la Binance Smart Chain, ok? Perché? Perché ovviamente abbiamo, capiamo tutti che Uniswap diventa veramente complesso da utilizzare per i piccoli investitori, le fee sono elevate fino a che Ethereum non fa qualcosa, ovviamente sono progetti che è più complesso andare ad utilizzare all'interno appunto dei retail piccolini, però stesso tempo ricordatevi che i retail piccolini solitamente hanno meno esperienza magari rispetto a delle grosse whales e quindi, quindi estrema attenzione perché anche gli scammer si stanno spostando su Binance Smart Chain, questo è un progetto DeFi che è stato hackerato per 31 milioni di dollari, non si sa se effettivamente è stato hackerato oppure abbiano manomesso il team stesso, gli smart contract per andare a sottrarre fondi, quindi veramente ragazzi ponete estrema attenzione. In questo caso qua era appunto questo Mercat Finance, ma ne crescono veramente, ne piombano di tutti i colori, con delle API assurde, ragionate sempre su quello che fate. Il mio consiglio è, se vi piacciono i progetti DeFi, ci sta assolutamente, anche su Binance Smart Chain, però utilizzate almeno quelli un pochino più supportati, quelli che vedete anche magari su Binance, quindi qualcosa che effettivamente abbiamo una garanzia in più che non sia uno scam, perché altrimenti ragazzi il modo per perdere soldi è questo, mettere i vostri fondi all'interno di questi smart contact che non sono verificati, non sono certificati, non c'è dietro nessuno, ci sono solo dietro degli scammer che non vedono l'ora di fregarsi i vostri fondi. Quindi veramente ragazzi, estrema attenzione perché fare soldi in questo settore è complesso, perderli è invece facilissimo. E questo è un modo per perderli, quindi davvero ci tenevo a fare questa intro perché è più importante forse dei grafici, ok? Quindi veramente estrema attenzione. Prima di passare all'analisi dei grafici, che vedete già una bella trendline che non ho tirato adesso, l'ho tirata in pausa pranzo, ok? E per il momento la sto mantenendo lì così perché sembrerebbe tenere. Andiamo a vedere un pochino quelle che sono le vostre domande, cosa mi state scrivendo. Ciao Luke, no non sono Luke, Luke c'era ieri, io sono Emiliano, puoi analizzare il livello di acquisto di meglio termine su Cardano BNB. Grazie, sì dopo guardiamo insieme tutte le alz. Ciao Emiliano, una info tecnica, il bitcoin è ciclico giusto, quindi raggiunto il picco di questo albing seguirà sicuramente un ritracciamento importante. Allora, io sono esattamente contro queste cose qua, nel senso che sì, bitcoin e la sua breve storia è ciclico, sicuramente ci sono stati dei livelli appunto di ciclicità che ovviamente hanno portato dopo gli albing ad avere delle fasi espansive di bull run, magari questo lo possiamo anche vedere insieme sul settimanale magari. Ecco, vedete che comunque segue delle fasi cicliche, ok? Segue delle fasi cicliche, appunto, guardiamo sul logaritmico, magari si vede ancora meglio, ecco, col logaritmico si vede meglio. Vedete, segue delle fasi cicliche, però, 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 però estremo attenzione a dare tutto per scontato che andrà così anche il futuro. Perché? Perché sono analisi che solitamente si fanno su serie storiche temporali di almeno 50-60 anni, ok? Quindi utilizzare una serie storica di 10 anni scarsi, ma dico scarsi non per la fascia temporale, ma voi dovete immaginare che fino a qua, 2015, tutta questa cosa qua non è neanche un mercato vero e proprio, ok? Cioè, non c'erano dei volumi consistenti, non c'era l'adozione, era ancora più piccolo di com'è adesso, quindi vi lascio immaginare, appunto, è come fare un'analisi tecnica su una coin da, non so, 100 milioni di dollari. Sì, va bene, fate un'analisi tecnica, ma non è che fate tutte queste grandi, non è che ha così tanta valenza, no? Quindi, vi dico, personalmente, sì, si muove a cicli, ma si muove anche a cicli di adozione, di domanda, di quello che è lo sviluppo di questo settore, ok? Quindi, se si va avanti e si continua ad avere domande, essere adottato, sicuramente la bolla, o comunque sia più che la bolla, la fase ciclica continuerà, però è ovvio che si va anche avanti su un livello di adozione di domanda. Quindi, un ritracciamento importante, ma non è detto per forza che ci sia un ritracciamento importante, è ovvio che se si va in una condizione di euforia, quindi una condizione di bolla, è chiaro che poi ci sarà un ritracciamento importante, però nulla, c'è scritto da nessuna parte che noi dobbiamo adesso prendere, andare to the moon e poi scoppiare per forza, possiamo anche proseguire tranquillamente in una fase rialzista di cicli annuali, ok? Quindi non è detto che succede tutto nel 2021, ok? Però, questo è giusto per informazione, è ovvio che anch'io spero che questo accada, però è ovvio che bisogna sempre ragionare con i dati che abbiamo a disposizione, e meno con la fantasia, però, insomma, ci può stare. Cosa si intende per bear market e quanto tura solitamente? È esattamente lo scoppio di una bolla, quindi solitamente è la fase discendente che poi va a sfociare in una fase di accumulo per poi andare in una ripartenza. Ci siamo, ok? Questi erano i check dell'audio. Emiliano, cosa ne pensi degli NFT e quali sono i tuoi preferiti? Che lo so che li hai, giusto per pompare un po' a fomo che va di moda. Ma io in realtà, ragazzi, vi dico una verità, io non sono un gran fautore degli NFT. Allora, io credo che il futuro possa esserci anche gli NFT, sicuramente è un bel trend, sarà un trend importante da cavalcare, però, personalmente, non mi piace troppo essere esposto in NFT per un motivo, perché non sono liquidi, ok? Ora, a me piace essere in un mercato liquido, quindi se voglio liberarmi di una posizione posso farla, posso aprirla, posso chiuderla. Comprare un NFT è un po' comprare un'opera d'arte, quindi, cioè, è comprare un'opera d'arte, quindi voi state avendo la stima, cioè, state facendo una stima che quest'opera d'arte un giorno varrà di più, che quindi ci sarà più domanda, sì, però non è liquida, cioè, voi la mettete in vendita su uno store o, insomma, in qualche modo, e dovete sperare che qualcuno ve la compri. Quindi è un mercato, secondo me, molto complesso, molto diverso da quello che è effettivamente quello a cui siamo abituati, no? Però andiamo verso un, diciamo, un periodo in cui, spero che anche gli NFT abbiano la loro valenza, l'avranno sicuramente, però servirà anche domanda e, secondo me, è uno step in più che va fatto psicologico nel capire la blockchain. Cioè, secondo me, prima bisognerà avere un'adozione della blockchain, una sicurezza di pensiero sulla blockchain per quanto riguarda, appunto, i retail. A quel punto, secondo me, gli NFT potranno avere seguito. Prima, secondo me, è un po' complesso, è un po' complesso, per andare verso un'adozione, ovviamente. La Domina, c'è una stablecoin, esatto. C'è l'introtto 45, no? Ok, ok, buonasera. Riff, oggi un pump di market cap 450 milioni, ole. Dopo andiamo a vedere anche Riff, a CapTay per ora si sta comprando benissimo anche rispetto ai dump di Bitcoin, che ne pensi lungo il periodo. Andremo a vedere anche quello. Andiamo un attimino, allora, prima di passare alle alz, perché vedo che comunque le domande sono principalmente sulle alz, andiamo a vedere quello che sta accadendo su Bitcoin. Perché? Perché, voi sapete che faccio queste analisi che mi piace fare sull'orario, perché abbiamo maggiore, maggiore continuità, ok? Dobbiamo tenere traccia di quello che sta accadendo. Dobbiamo avere sempre una linea guida, perché se voi avete una linea guida, i dump, i pump, eccetera, riuscite a capirli. Quindi, se non avete una linea guida, è ovvio che andate un po' in panico, andate in FOMO o FAD, FOMO o FAD, FOMO o FAD, e vi dico, FOMO e FAD non sono mai i vostri alleati. Quindi, quello che sono andato a tracciare, appunto, facciamo un attimo il riepilogo. Appunto, avevamo detto, quest'area qua, ok, è un target, ok? È un'area target che diventa una resistenza importante. Perché? Perché questo è un cluster che, vedete, va in corrispondenza di questi livelli, che sono stati dei livelli che, per il prezzo, sono stati veramente importanti. Qua, come resistenza, qua, come supporto, qua, come resistenza, l'abbiamo ritestato nella giornata di ieri, e siamo stati riassorbiti con una violenza abbastanza elevata. Ma lo vedete dai volumi, ok? I volumi che non hanno, che hanno, appunto, avuto continuazione bearish e ci hanno respinto. A quel punto non abbiamo più avuto continuazioni di volumi bull, non abbiamo più avuto reazioni da domande, quindi ci siamo bloccati un po' impantanati sui 50.000 dollari. Che, inizialmente, i 50.000 dollari è sembrato essere comunque una buona resistenza, ma però, alla fine, non si è confermata tale e abbiamo trovato supporto, principalmente, sulla 200 oraria. Lo vedete qua. Vedete tutte queste shadows su A200, che in questo momento, ovviamente, la stiamo perdendo, facciamo un bel dumping diretta. No, dai, speriamo di no. Io ho tracciato una trendline, ok? Che è questa qui. L'ho tracciata in pausa pranzo, perché? Perché queste shadows qua mi sembrano abbastanza tenere. E quindi ho detto, perfetto, la traccio così. Ovvio che nulla ci vieta che la potessimo tracciare anche in corrispondenza di questa, di questo punto qua. Però mi sembrava un pochino troppo, diciamo, parabolica, ok? Quindi ho preferito tenere buona questa qua. Questa qui sta diventando un po' un livello chiave. Non abbiamo, ragazzi, devo dirvelo, non mi sembra che abbiamo particolare continuazione bull. Ora, sto parlando sempre di breve periodo, ok? Non parliamo di lungo periodo, perché ovviamente il costrutto è bullish su train frame maggiori. Però diciamo che sull'orario, dopo questa bella, bella, bella scalata che abbiamo avuto, vorrei vedere continuazione, vorrei vedere continuare il pattern. Ovvero, mi piacerebbe vedergli fare questo, ok? Quindi abbiamo fatto il nostro high, il nostro low, il nostro high, il nostro low e vederlo rompere a rialzo. Però per fare questo dobbiamo o andare in una fase di equilibrio e quindi di una situazione come questa, ovvero adesso rompere, stringerci in un equilibrio e poi vedere da che parte rompere. Altrimenti, se continuiamo ad avere volumi bearish, allora andremo a testare questi livelli qua. Possiamo tranquillamente ritornare a testare questo minimo qui, sui 47 mila dollari, e poi tornare eventualmente in aree più basse. Però, per il momento, la struttura, a mio avviso, si sta rivelando comunque bull, perché questo recupero qui che abbiamo avuto è un recupero importante. Non possiamo dimenticare quello che è successo, perché, appunto, abbiamo avuto un bel recupero. È una struttura che però, come vi dicevo, assomiglia molto alla struttura che abbiamo avuto in questa fase. Lo vedete, abbiamo avuto un bel pump, una bella leg up, una dip importante, un recupero della dip, un'altra dip, tac, recupero. Ora potremmo trovarci qua. Quindi nulla ci vieta che ora potremmo andare di nuovo a ritestare questi minimi qui, per poi andare a recuperare. E' ovvio che non è significativo quello che è successo poco fa, per forza, però è un po' curioso, insomma, vedere come si assomigliano questi pattern. Quello che voglio farvi vedere sempre, tornando un attimino indietro, è che comunque sia vi trovate in una situazione, ok, a livello un pochino più di zoom out, sempre positiva. Ok? Cioè, non è una condizione messa male, ok, del prezzo. È ovvio che nel breve periodo potete trovare degli affondi e potete trovare anche tanta volatilità. La volatilità fa parte del gioco. Più salite di prezzo, più avete volatilità. La candela di ieri in realtà non è una bellissima candela. Perché? Perché comunque vedete che avete avuto una shadow a rialzo riassorbita. Quindi questo vuol dire che a questi livelli qui, ok, c'è palese offerta. Abbiamo provato anche oggi, ok, dopo essere assorbiti, a bucare. Ma vedete che più ci avviciniamo a questo target qua, ok, e più comunque qui ci sono dei belli ordini short, ok, da fillare e da distruggere. Eventualmente da rompere a rialzo. Come facciamo a rompere a rialzo? Lo sapete qual è la risposta con volumi bull importanti. Ma finché continuiamo a essere respinti, vedete come qua. Qua abbiamo avuto una shadow importante, un'altra shadow non ce l'abbiamo fatta, siamo andati a correggere e a pescare liquidità su livelli inferiori. Quindi, quindi, è finita per i bull? No, assolutamente no, non è finita. Però è ovvio che dopo, dopo, e qua arrivo al punto, dopo uno scenario di dump importante, ok, lo scenario migliore che vi ho sempre detto è una situazione di equilibrio. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque. E a questo punto vedete che potete poi tracciare un triangolo e vedere da che parte rompiamo. Però è più probabile, perché andare da qua a prendere comunque i nuovi all time I e quindi fare un V-shape recovery così, non è sempre un V-shape, ok? Solitamente si va e dopo questi dump importanti andare a consolidare, andare un attimino a cercare di trovare un equilibrio, una fase di carico appunto del prezzo per poi vedere dove che parte rompere. Però diciamo che a livello di time frame superiori, già sul giornaliero, la situazione è bullish, è ovvio che lo sarà anche sul settimanale. Se me lo carica, ok? Sul settimanale, vedete, manteniamo un uptrend continuo e costante. Quindi, attenzione, non è una situazione di panico, non c'è da mettersi le mani nei capelli, magari, ok, essere in queste situazioni qui. Quindi, davvero, ok, ritorno qua a scala normale, ma è solo per una visione migliore. Ops. Dove è finito il grafico? Dove è finito? Ok. Ok. Comunque siete in una condizione ancora di uptrend, tranquillo, e non ci sono particolari segnali di inversione, ok? Questi sono degli scarichi, ma abbiamo chiuso una settimana veramente bella, pesante, però comunque ora la situazione, ve lo dico, lo scenario più probabile è l'equilibrio. Quindi, su Bitcoin questo, per quanto riguarda la market cap, ok, niente di più, cioè, ci manteniamo sempre su questi livelli qua, di 1.47 trillion, che sono comunque dei livelli ottimi, però vedete come comunque stiamo andando anche qui, in una fase di consolidazione, una fase di lateralizzazione. E' tutto un po' in lateralizzazione in questo momento. La dominance, l'avete detto voi stessi, è una stablecoin, ok? Quindi non abbiamo indicazioni, stiamo continuando nel nostro range, in realtà stiamo sempre ribassisti, ok? Però, di dico, in generale, è un po' un mercato che si sta un po' evolvendo, cioè, ragazzi, quante volte vi è capitato, per chi c'era da prima di trovare un Bitcoin che vi fa un meno 4, e vedere Ethereum che vi fa meno 0,3, o vedere Kusama che vi fa meno 1, Band che vi fa meno 4, Dot che vi fa meno 4, Link che vi fa meno 5, cioè, sta andando tutto abbastanza a braccetto, no? Quindi è per quello che voi sulla dominance non avete particolare continuazione, non avete particolare situazione, appunto, che vi fa fare questi pump della dominance, cioè, non state vedendo questo perché Bitcoin ritraccia, ok? Che solitamente era un po' così. Per questo io insisto sempre, vi faccio sempre questa paranoia del fatto che non dovete basarvi sulla storia, sempre. Non è tutto uguale, non sta scritto a nessuna parte che da Burran si evolverà, che andiamo a 150, poi a 150 consolidiamo e torneremo a 50. Non sta scritto a nessuna parte, sono modelli, i modelli vanno bene, sono bellissimi, io ci credo, mi piacciono anche a me, però sono modelli e vanno presi come tali. Non potete fare decisioni finanziarie basate su un modello di scarsità, perché la scarsità va benissimo, va benissimo, ma deve essere seguita da domanda. Se non avete domanda, ok? Potete essere scarsi finché volete, vedete che ci sono un sacco di asset che hanno una supply di 100 pezzi, ok? Ma non per questo il prezzo è ad un milione di dollari, ok? Quindi è importante, secondo me di più che la scarsità, capire esattamente dove stiamo andando a livello di adozione, di blockchain, di sviluppo di queste tecnologie, di adozione nel mercato, di entrate di istituzionali, entrate di regolamentazione, di adozione. Questo è fondamentale. Però ho finito il pippone, torniamo alle vostre domande, va che meglio? Vediamo, vediamo un po', allora, passiamo dai a qualche domandina un po'. Pense che su DOT e RIF si vada a ritestare il botton precedente nei prossimi giorni? Ma guardiamoci DOT, dai, intanto. A DOT, personalmente, è il solito DOT, ok? Lo vedete, cioè, è una macchina, vi fa il pump, vi lateralizza, vi fa il pump, vi lateralizza, vi fa il pump, correzione, pump, correzione. DOT è su dei livelli veramente molto importanti, ora si sta consolidando a dei livelli molto importanti. Secondo me DOT deve ancora dare tanto, perché ricordiamoci che non abbiamo ancora Coinbase come exchange, secondo me potrebbe esserci tranquillamente tra un po' Coinbase. Abbiamo ancora da fare le auction per le paracene, non chiedetemi la data perché non la so, la vorrei sapere anch'io. Però abbiamo ancora tanto sviluppo su Polkadot, c'è tanto hype, c'è tanto supporto e quindi io credo che, diciamo, i bottom, io personalmente su DOT entrerei a pack a questo momento. Cioè, io mi acquisterai le dip fondamentalmente. Perché, se credete in questo progetto, è inutile star qua a tradarlo più di tanto. Se volete tradarlo, sì, ci sta, con una parte di wallet piccolino ci sta. Però sono quei progetti che a me non piace tradare, così come mi piace tradare Kusama, lo sapete benissimo, io non riesco a tradare questa roba qua, ok? Cioè, se voi riuscite a tradare questa roba qui, cioè voi guardate, questo è un grafico orario, ok? Cioè, è una macchinetta che fa cose a caso e, secondo me, è più un progetto long term da tenere in wallet, se dovete sentire quello che dico io. Ma è ovvio che, come sempre, anche questa sera non vi manca la cosa che non sono consigli finanziari, siete voi a premere buy, siete voi a premere sell. Quindi non fate copia e incolla di quello che vi dico, mi raccomando, perché è assolutamente a scopo formativo e non di consiglio finanziario, ok? RIF, vogliamo anche RIF, perché RIF oggi, siamo andati un po' tutti in fomo per RIF, ok? Ci ha fatto la sua fiammata, ok? Va benissimo, va benissimo, ci sta. Quindi abbiamo avuto un bel segnale da RIF, abbiamo avuto un bel segnale da RIF, voglio vedere continuazione, ok? Voglio vedere questo, ok? Voglio vedere ora un consolido, magari è una rottura a rialzo, questo voglio vedere, voglio andare a ritestare gli 055 per andare a cercare di rompere a rialzo questa struttura. È importante, RIF io non ce l'ho con RIF, anzi, secondo me è un po' il progetto che ne abbiamo parlato noi in live, in prima battuta. Però mi ricollego a RIF per farvi vedere una cosina, ok? Una cosina. Facciamo così, così. Tac, tac, tac. Aspettate che vi ridimensiono, così vedete tutto, ok. Allora, su RIF voglio farvi vedere una cosina. Per chi mi dice, ah ma RIF va a 3 dollari, 2 dollari, 1 dollaro. Allora, ragionate con la market cap, ok? Voi siete con un token che è in posizione 102, ok? A parte la posizione, guardatevi quant'è. Sono 443 milioni di dollari. Se voi andate su CoinMarketCap e vi andate a fare un giretto, vedete che se volete andare a 1 milione di dollari, dovete essere circa in posizione 70. Quindi in posizione 70 voi praticamente avete fatto un per 2, circa. Quindi vi trovate più o meno RIF a 9-10 centesimi, ok? Se volete andare a 20 centesimi, dovete avere una market cap di 2 miliardi. Se andiamo a 2 miliardi, vuol dire che dobbiamo superare, praticamente arrivare a Kusama, ok? Quindi in posizione 44, esiste a 20 centesimi. Se volete andare a 40 centesimi, dovete avere 4 miliardi. Quindi vuol dire che dovete arrivare a prendere Cosmos, ok? Se volete andare a 60 centesimi, dovete avere 6 miliardi e così via, ok? Quindi ragionate sulla market cap, ok? Quindi non potete pensare che RIF vada a un dollaro perché è così. Dovete sempre ragionare sulla market cap e farvi i vostri termini di paragone. Paragone che potete fare però adesso, ok? Non potete farlo tra 6 mesi, perché tra 6 mesi, se questo settore invece che essere 1.5 trillions, che mi dice qua con market cap, diventa 6 trillions, allora è ovvio che RIF vi può andare a un dollaro e rimanere anche dov'è. Perché? Perché tutto il mercato va ad acquistare potenza, va ad acquistare market cap. Però i ragionamenti vanno fatti con la market cap alla mano, ok? Nella condizione attuale di mercato, RIF, vederlo a un dollaro è impossibile, ok? Praticamente, ora qua di impossibile non c'è nulla, quindi non prendete la parola. Però il concetto è quello, è altamente improbabile, ok? Quindi sempre quando ragionate in termini di investimento, ragionate sempre in market cap. Poi so benissimo che magari tanti non hanno questa esperienza, insomma, di andarsi a vedere la market cap, però è fondamentale. Così come è fondamentale sempre il volume dei progetti. Direi che su RIF abbiamo detto un po' tutto. Andiamo a vedere altre domande. Cosa ne pensi di V-Chain, VET? Allora io VET fondamentalmente non è un brutto progetto, ma io non lo seguo poi più di tanto, VET. Andiamo, diciamo, a vedere un attimino come è messo. Sì, 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 beh, VET, io me lo ricordavo, vi dico la verità, lo seguivo un po' quando era sul centesimo, ok? Quindi ora è andato anche molto bene. Andiamo a vedere VET, BTC. Beh, allora sì, sicuramente sta recuperando bene, sta recuperando bene. Andiamo a vederlo sul giornaliero. Sì, sono quei progetti che ha avuto un bel exploit quest'estate, infatti me lo ricordavo. Poi col seguito di Bitcoin diciamo che l'ha sofferto un po' tanto. Beh, personalmente sì, può essere un progetto interessante. Sì, cioè alla base comunque è interessante. La market cap è ovviamente molto molto elevata, quindi ci sta, ci sta, abbiamo un'esposizione in VET. Ovviamente poi i progetti sono tanti, vanno fatte delle scelte. Guardiamolo un attimino a livello VET USDT per avere, sì, VET, sì, VET USDT per vedere appunto anche di più a livello. Beh, sicuramente si sta palesando domanda, ok? Perché dopo questo ritracciamento importante che ha fatto, e parliamo di un, eh, di un 40%, siamo tornati in queste zone qua, ora si sta ripalesando offerta. Sicuramente c'è domanda, però ragazzi sono sempre quei progetti da prendere e gestire, ok? Soprattutto in queste fasi di uptrend, perché lo vedete benissimo, vi può cacciare un 40% di tracciamento e andate in panico e non sapete cosa fare. Quindi mi raccomando sempre, dosate il rischio, quando vedete soprattutto questi movimenti, queste lag-up importanti. Cosa ne pensi di BAT? BAT in realtà lo uso con, lo trovo su Brave, no? Sul browser. Andiamoci a vedere insieme. Con USDT, dai. E anche BAT ha fatto un bel movimento a rialzo. Io personalmente ne starei altamente in guardia in questa fase qua, perché siete usciti da questa fase di consolidazione veramente molto importante, avete rotto a rialzo, ma poi come sempre, vedete, sono quei token particolari, perché quando vi fanno queste lag-up, poi avete sempre questi ritracciamenti di quasi il 45%, sono veramente tanti. Poi avete questi fast recovery, però veramente, estrama attenzione, estrama attenzione. Parliamo di i gold, i gold, i gold è lo stesso discorso, cioè quando vedete questi candeloni, poi lo vedete tranquillamente che dai top ritracciate, se non tengo in considerazione questa, ma teniamo questa, ritracciate un 60% quasi. Ora, vi va in uno scenario di equilibrio, chiaramente. Vedete qua, dopo questa chiaramente dump, avete un recovery e a quel punto probabilmente andrete a stringervi in un equilibrio. Stesso discorso. Personalmente, a questo punto, se dovessi entrare su i gold e volessi aspettare, attenderei di vedere, di andare a pescare quello che è il lower high, circa, secondo me, in queste zone qua. 120 dollari, 120, 130 dollari, per fare una move a rialzo, ovviamente, con stop loss sotto gli ultimi minimi, potete tenere, secondo me, già i 100 dollari, 100 dollari. Volete stare un po' più larghi, fate 90 o 90, però diciamo che eventualmente che uno volesse tradarlo può giocarsela così, secondo me, sui gold. Complimenti per il canale, grazie mille. Pensi che il ritracciamento del mercato azionario possa influire sull'andamento di bitcoin? Allora, anche qua, io sono un solito che va in controtendenza. Sì, nel senso, è chiaro che in questo momento qui avete sull'azionario comunque dei movimenti ribassisti e quindi possono esserci dei momenti di dump. Chiaro, abbiamo delle correlazioni, ma noi siamo su una strada separata, secondo me, perché a noi serve adozione, ok? Quindi serve che ci sia fiducia in questo settore, è quella la chiave che ci serve per poter andare avanti su bitcoin e sull'ecrypto. Ora, se abbiamo delle correlazioni di medio termine, sì, ci possono stare. È ovvio che non ci aiuta assolutamente vedere scendere, ok, l'S&P 500 e i vari indici. Quindi un po' di correlazione c'è, però diciamo che la vedo più correlazioni di breve, ecco, più che a lungo termine. Finalmente sei riuscito ad esserci in live, ottimo. Vediamo un po'. XLM, XLM, vediamo se ce l'ho qui, XLM, o non ce l'ho, vediamo. XLM, USDT, sac, sac. XLM, stesso discorso, fa un pump, poi fa un ritracciamento importantissimo e ora si stringe. Io personalmente, XLM, per me, e attenzione, io ero un affazionato di XLM, ok, però personalmente cerco di puntare su altro, perché queste sono coin cadaveri del 2017. Van benissimo, sono belle, a me piacevano tantissimo, le chiamavo le stelline, ce le avevo nel ledger, le stelline, molto belle. Però effettivamente, boh, cioè, boh, il loro progetto è fare pagamenti, sì, ok, ma secondo me ci sono soluzioni diverse. Non credo che XLM, ecco, possa essere fondamentalmente il futuro, ma è la mia visione, ok, nulla contro XLM, assolutamente. Però, diciamo che, chi viscilla XLM è rimasto un po' indietro, secondo me, di qualche anno. La grande esplosione di DOT sarà quest'anno che ci saranno le prime aste o anche nei prossimi anni? Io credo che DOT possa dare tanto nei prossimi anni. Ovviamente, se devo valutare il breve periodo, è ovvio che farmi un'asta sulle parachain può essere, diciamo, una situazione molto interessante, perché ovvio che va a creare hype, va a creare una scarsità anche dell'asset. Se non erro, siamo a un 65% di stake, di DOT, quindi di totale di DOT so che sono in stake. Io personalmente, ragazzi, per me, poi vabbè, sarò io patito di DOT, ma queste sono dip che sono ottime occasioni di acquisto, fondamentalmente. Possono essere delle ottime occasioni di acquisto delle dip su DOT, perché è un progetto che a livello di rischio rendimento, cioè, voi capite una cosa, io ragiono in un modo, ragiono a livello rischio rendimento. Perché? Perché è ovvio che se io compro DOT a 35 dollari, non mi aspetto che domani faccio un per due, va a 70 dollari. E' chiaro, mi servirebbe una market cap altissima. Allo stesso modo, è ovvio che se vi vado a comprare bake, ok, che vi ho detto, è ovvio che mi posso aspettare che domani faccia un per due. Sì, posso. Così come posso aspettarmi che faccia un meno 30 anche però, ok? Però è ovvio che se voi avete un capitale fatto 100, potete andare magari a spingere di più per avere un wallet che sia un attimino più stabile su un DOT, ok, a 35 per garantire una stabilità del wallet e destinare invece un 3%, 2%, 5%, quello dipende da voi, dalla vostra tolleranza al rischio, a bake e dire, buon perfetto, bake mi può andare a 2,50 dollari domani se si prende il pump. Però sono due modi completamente diversi, sono due cose completamente diverse. Quindi, adesso mi sono ricollegato a questo, ho fatto una divagazione, però questo per dirvi che secondo me nel lungo periodo sono progetti che sono molto più soliti, molto più soliti, hanno molte più garanzie. Questi sono progetti che se domani verranno adottati, ben per voi. Se domani non vengono adottati e falliscono, non muore nessuno, ok? Però mi muore il vostro capitale. Come vedi Coinbase che si è quotata porterà riflettori ulteriormente sulle crypto? Secondo te la raccomandazione alle porte è ancora qualcosa di lontano? Un'ottima domanda, un'ottima domanda, grazie Daniele. Beh, personalmente credo che Coinbase, il fatto che si quoti, sia un'ottima cosa per tutti, ok? Un'ottima cosa per tutti perché porta finalmente una ventata di... Intanto teniamoci Bitcoin aperto che mi sto portando sfiga, ragazzi, con la live da 18,45, non si può più fare, ragazzi. Cioè, se prendiamo questa trendline è finita. Prossimo 40.000 dole, non 42, 40, scherzando. No, troviamo seri. Coinbase, Coinbase è ottima l'IPO perché può portare veramente confidenza anche su investitori istituzionali che magari non vogliono esporsi in Bitcoin direttamente, ma è ovvio che investire in Coinbase è come investire nelle crypto, ok? E investire nell'espansione di un settore perché è ovvio che Coinbase in questo momento avete due rischi. Certo, il rischio aziendale e il rischio poi che il settore vada avanti. Però diciamo che a livello americano, a livello di... non asiatico, ecco, Coinbase direi che la fa abbastanza da padrone insieme a Kraken, ok? Come exchange tolti ovviamente con gli asiatici. Quindi secondo me va più che bene, la vedo ottima e la regolamentazione alle porte io, tra virgolette, spero di sì. Ma non spero di sì perché voglio essere contro al sistema crypto, ma perché se volete vedere Bitcoin a 100.000 dollari o volete vedere Bitcoin a 200.000 dollari, è ovvio che dovete avere una regolamentazione. Già adesso sono in ritardo, sono molto in ritardo, secondo me, perché devi fare delle regole chiare. Non puoi, secondo me, ma questa è la mia polemica a caso, applicare una disciplina economica, finanziaria basata su asset con storicità 1920, a un settore che è completamente diverso, no? È come dimetto il cancello, ok? E poi vi lascio tutto il parco, il perimetro libero. Cioè, non ne va nella serietà di quello che è l'ecosistema. Cioè, è importante avere una regolamentazione, secondo me. Essere, fare le cose chiare, avere un modo chiaro di spiegare le cose, di avere il controllo delle cose, perché altrimenti gli attori grossi, che non siamo noi che stiamo in questa live, in questo momento, non entrano, perché hanno paura, non sanno, non vogliono problemi, non vogliono casini. E questo è un limite, è un limite importante. Quindi io spero che si vada verso una regolamentazione vicina. Anzi, vediamo un po'. Che ne pensi del modello Stock to Flow e della Coin Killing? Allora, Stock to Flow, io ragazzi non sono contro lo Stock to Flow. Vediamo se, dai, se lo guardiamo live, lo Stock to Flow. Aspettate che ve lo trovo. Perché io sullo Stock to Flow non sono contrario, anzi ci sta, è molto bello. Secondo me ha fatto un ottimo lavoro Plan B. Ma a me piacciono i modelli, se vi piacciono i modelli, andate a vedere sul mio canale YouTube, ho pinnato, il video ho pinnato nel canale, ho fatto anche io un modello matematico che stima il prezzo di Bitcoin. Quindi, cioè, non sono contro gli Stock to Flow, ok? Anzi, anzi, è un bel modello, è un bel modello. Il problema dello Stock to Flow è solo che, secondo me, a parte il modello che è molto bello, va tenuta in considerazione la domanda che deve continuare a crescere. Ora, sì, siamo anche oltre, no? A quello che è lo Stock to Flow. Aspettate che qua faccio un casino. Così si vede? Sì. Aspettate un attimo. Ok. Facciamo così. Perfetto. È ovvio che è un modello e come tale va però ragionato, ok? Questa roba qua funziona, funziona però se c'è domanda e c'è adozione. Se non c'è domanda, è ovvio che qui si fa fatto salvo che la domanda continua ad esserci uguale e superiore. Se qua non avete domanda, questa roba qua funziona poco, ok? Quindi ora, per esempio, se voi seguite lo Stock to Flow, mi dite che effettivamente alla data odierna voi vi dovreste trovare circa sui 35.000 dollari. Quindi effettivamente se voi avete un ritracciamento a 35.000 dollari, per lo Stock to Flow non succede nulla. Sì, ci può stare, però ricordatevi sempre che state ragionando con un modello, ok, che non tiene in considerazione la domanda. Eventi esogeni. Eventi esogeni sono gli Black Swan, che voi non avete ovviamente considerato in un modello. Quindi io sono favorevole, sì, però fate salvo tante ipotesi. Quindi se le ipotesi saranno confermate è ovvio che si andrà verso questi valori anche più alti, anche più alti. Però bisogna continuare a lavorare su quelle ipotesi lì. Killin, beh, Killin, vediamola un attimo perché io fondamentalmente l'ho sentita un paio di volte, ma più che sentita... No, aspetta, con un'exica... Ah, scusate. Killin. Killin, Killin, Killin. No, Market Cap, ottimo. Volumi... Volumi normali, sì. Beh, fatemi vedere un attimo il progetto perché non vorrei... Ah, ok, ok. È su, è su po', sì, 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 ho visto. Ma io personalmente non la sto seguendo, quindi non voglio dirvi cavolate su questi progetti qui perché non ho più o meno super informazioni. Quindi in caso me la guardo vi do poi una view. Però effettivamente non abbiamo dei dati di Market Cap. Ecco, gli exchange sono quelli che sono... Estremo attenzione quando trattate questi token perché, boh, potete fare tanti soldi e potete anche perderne tanti. Quindi veramente, ragazzi, state attenti, veramente attenti. Cioè, veramente, ricordatevi una cosa. Quando investite in questo settore, regola numero uno, regola numero uno, proteggere il vostro capitale. Regola numero due, andare a farne, ok? A meno che non andate con 100 dollari e fate la scommessa, allora ok. Grazie Mauro per il Prime, grazie, grazie, grazie. Ah, per un proposito ne approfitto. Se avete appunto Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al canale. È un modo per darmi un sostegno, ecco, per poter sviluppare ulteriormente magari la scenografia dietro che fa schifo. No, dai, perché se le cose vanno bene è ovvio che se mi supportate, mi date una mano a crescere, è ovvio che sono contento e posso anche investire ulteriormente in questo canale. Quindi vi ringrazio. Per chi dovesse farlo, appunto, è gratuito con Amazon Prime, sincronizzate il vostro account e ci siete. Me lo chiedo da un mese se XM si aveva morta, mi sta innervosendo molto personalmente. Ecco, una cosa che vi consiglio di fare sui progetti che voi non ci credete, uscite, uscite subito. Cioè, non rimanete dentro perché, vabbè, speriamo che un giorno, cioè, noi non dovete sperare nulla, voi siete degli investitori, ok. Quindi, in quanto tali, ok, non dovete sperare nulla, dovete credere in un progetto. Se questo progetto non vi convince, uscite, 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 avanti il prossimo, qua ci sono occasioni tutti i giorni, ok. Poi ci sono dei progetti che c'è tempo di attendere, c'è tempo di aspettare, allora, ok, è una questione di tempo, ci credo, lo seguo. Però se a voi vi fa innervosire e non vedete il risultato, potete tranquillamente uscire. Vediamo una cosina, volevo farvi vedere una cosina. Volevo parlarvi di due coin, visto che siamo già a 40 minuti. Volevo parlarvi di uno, HT, ok, quindi molto bene, molto bene HT, sta continuando in una fase di espansione, quindi molto bene. Per chi, appunto, ci seguiva ancora un paio di mesi fa, due o tre mesi fa, HT l'abbiamo data a 0,70 centesimi. È un progetto che punta a fare, appunto, come un Amazon Web Service decentralizzato, quindi un servizio di cloud decentralizzato su blockchain, quindi è molto interessante. Lavora su Cosmos, Simone ha il validatore, ha si validator, quindi lo trovate anche. È una reward allo stake del 50%, quindi veramente esagerata. L'abbiamo data a 0,70, l'abbiamo trovata a 5,86, direi che potete essere felici. Ora, vanno sempre gestite queste coin perché, vedete, la market cap è contenuta, però avete, questo vuole anche dire che avete ulteriore spazio di crescita, quindi molto bene. La trovate su Bitmax, Bitmax l'ho provato come exchange, in realtà non è male, ragazzi, non è male. È molto veloce, molto rapido nella gestione delle vostre posizioni. Per qualche altcoin che non trovate in giro può essere una buona soluzione, sicuramente meglio di Bilaxy, ok? Avete anche l'app, però adesso non vi sto scillando Bitmax perché solo per dirvi che l'ho utilizzato e sinceramente anche per comprarmi qualcosina di AKT e funziona molto bene. Cioè, a me ha funzionato bene, quindi ci tenevo a farvi un appunto su AKT come ci tenerei a farvi un appunto su Band Protocol. So che molti sono un po' delusi da Band, eccetera. Io guardo sempre questo, 250 milioni di dollari, è un progetto che movimenta 126 milioni di dollari in 24 ore. Avete tutti i mercati possibili, immaginabili, da Coinbase a Binance, a Crypto.com, chi più ne ha ne metta, Binance US, OKEx, Wobby, lo avete dappertutto. Quindi, diciamo che avete adozione, ok? Avete degli ottimi volumi. Personalmente, dalle informazioni che ha anche Simone, eccetera, stanno lavorando molto bene. Però è ovvio che c'entra sempre il solito discorso. Sono progetti che vanno seguiti. E se il progetto vi interessa, vi piace, può crescere? La domanda è, può crescere? Se avete una domanda, può crescere? Guardate la market cap. Sì, potete fare per due. Cioè, se Band Protocol va a 24 dollari, avete una market cap di 500 milioni. Cioè, non avete niente di che, ok? Niente ancora. Se questo progetto va a un milione di dollari, ok? Il prezzo di Band Protocol quant'è? Fate per quattro, ok? Quindi, 50 dollari, tranquilli. Ora, non sono così finanziario, non vi sto dicendo che Band Protocol va a 50 dollari. Voglio solo farvi ragionare che quando avete in mano un token, come RIF, ok? Va benissimo, avete però il doppio di market cap. Ora, qui, Band Protocol ha questo prezzo, come comprare RIF, alla metà, praticamente, a due centesimi, circa. Quindi, ragionatela sempre in quell'ottica lì, ok? Mi raccomando. Quindi, Band, aspettiamo sviluppi. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ciamigliano, credi le transaction fee su Bitcoin saranno limitanti per le piccole transazioni di lungo periodo? Eh, un'altra domanda interessante. Beh, allora, come vi dicevo, Bitcoin non è una coin che vi serve per fare i micropagamenti, ok? Quindi, personalmente, credo che spostare Bitcoin non sia un problema a pagare delle fee. Diventa un problema se Bitcoin fosse un layer utilizzato per fare dello sviluppo di altri progetti importanti. Ci sono tante soluzioni su Bitcoin anche per pagare meno fee, ci sono dei layer secondari, c'è l'IT network, secondo me ne usciranno di altri. Bisogna avere supporto da parte degli exchange, però fondamentalmente non credo sia una cosa limitante. Chris, abbiamo parlato di Riff, lo puoi vedere indifferita, non faccio due volte perché sennò appunto magari stufo un po', però Riff comunque ha fatto un bel pump, adesso vediamo se c'è la continuazione. Secondo te è corretto spostare i cake in staking su Bifi Finance danno il 330%? Sì, ci sono anche dei rischi, io ora non ho approfondito Bifi Finance, a dirvi la verità, ok? Però estramate in cautela quando avete gli API molto alti perché ci sono comunque sempre dei rischi. Però effettivamente magari una parte potete spostarla, poi si può anche provare a fare, però ovviamente è sempre quello che potete perdere. Vediamo un po', c'è un cluster a 4700 in quattro ore che prenderemo ora. Vediamo se lo andiamo a prendere, 4700, sarebbero questi minimi qua, più o meno, i minimi dell'ultima move a rialzo. Quindi vediamo un po'. Non vorrei, cioè non vorrei arrivare fino a qua, mi piacerebbe vederlo bloccarsi ora, avere un bel recupero. Anche perché più che altro, come dicevo, macro credo in una fase comunque di lateralizzazione, quindi una cosa del genere. Pam, 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 ok? Mentre di breve magari potremmo assistere anche a un recovery, un ritest di questa trendline, ci stringiamo e vediamo dove andiamo a finire, ok? Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, dai, Cardano, 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 Cardano. Cardano, so che l'avevo anch'io, Cardano, non la guardo più da quando l'ho venduta. Ah, a 15 centesimi. No, Cardano, Cardano sono le classiche coin, questa è la più interessante sul giornaliero, che è ovvio, vi hanno fatto un pump esagerato e anche qui, cioè, sembrerà che vi ripeto sempre questa cosa, però è così davvero. Ora, avete una fase di consolidamento abbastanza importante perché siamo andati a ritestare questi vecchi top, stiamo perdendo un po' questo livello qui che era 1.14, che secondo me era un ottimo supporto perché vedete che qua ci ha fatto da resistenza, è stata flippata a supporto, l'abbiamo testato qui perfettamente, l'abbiamo quasi ritestato qui e ora però stiamo avendo continuazione bearish. Quindi, attenzione a Cardano, fa sempre il solito discorso, cioè, entrare su una statità parabolica così, se entrate qui, ok, poi rischiate di poi essere in... le entrate sono fondamentali, ok, almeno che non abbiate un piano. Cioè, dovete sempre ragionare con un piano, ok, su Cardano, su qualsiasi coin in cui entrate. Quindi, mi raccomando, non entrate su train in corsa perché i train in corsa se non li prendete bene vi fate male, ok? Però a Cardano, attenzione, perché stiamo perdendo questo supporto, potremmo anche recuperare tranquillamente, chiuderà il di sopra, sarebbe sicuramente migliore. Band, Band, abbiamo parlato, vediamo un po'. C'è Miliano, secondo me che percentuale del portafoglio cripto può essere messo a rendita nelle pool di Pancake e simili? Bah, anche lì. Attenzione ai pool, perché quando voi fate, mi immagino intendi, liquidity providing, andate ad avere due rischi, ho fatto anche un video a riguardo, avete il rischio di impermanent loss. E l'abbiamo visto con BNB, ok, perché farmava Cake, aveva messo in liquidità un token che magari più o meno è rimasto fermo insieme a BNB, si è vista una bella impermanent loss perché il vostro token è rimasto fermo, BNB da 50 dollari è andato a 300, ok, e quindi si crea un disdivello importante, quindi andate a perdere sul possibile gain che potevate fare tenendo le coin ferme. Quindi ci sono sempre dei rischi legati a quello, più dei rischi legati agli smart contract, personalmente sta a voi un po' il grado di rischio, non andrei a mettere tutto su Pancake, andrei sempre a differenziare tra le varie piattaforme DeFi e CeFi che ci sono in giro. Vediamo un po', vediamo un po', buonasera, buonasera, Alpha sì dovrebbe andare su BNB, secondo me il recupero di Alpha è dovuto anche a quello. Vediamo un po', vediamo un po', qua un pochino mi perdo le domande. Ciao amici, cosa ne pensi di Orion Protocol, lo stai seguendo? No, non lo sto seguendo ragazzi, quindi non vi do super news perché non lo seguo personalmente. Ciao, secondo me Pancake roda dopo notizie di oggi, vedo già Cake in sofferenza, vediamo un po' che news in particolare stai parlando. Comunque, comunque vabbè ragazzi è sempre quello il discorso, se vedete Bitcoin che vi fa meno 4, non è che potete pensare che Cake vada to the moon, quindi sono quelle situazioni che, cioè oggi Cake vi fa meno 7, Bitcoin fa meno 4, è anche ottimo che faccia così. Vediamo un po', vediamo un po', Filecoin, io personalmente dopo il casino che hanno fatto all'inizio, un po' di questioni col team eccetera, ne sto alla larga. Ciao amici, puoi dare un'occhiata a CHZ, ha fatto un po' un pesaggiatto, ho preso a 300 e non so se vendere o ottenere poi che buon progetto. Sì, guardiamoci CHZ. Cilliz, Cilliz, Cilliz USDT, ok. Ma allora, considerate che questi sono token, ecco, ecco, allora, ti stai chiedendo se prendere profitto, prendi profitto, ti prego prendi profitto, sono consigli finanziari come dico sempre, però, quando vi trovate questi candeloni, qual è la probabilità che domani vi fa un altro candelone così, ok, molto bassa, soprattutto se avete queste shadow qui. Vuol dire che qua c'è sell off, quindi se tu l'hai presa a 3 centesimi, hai già fatto un ottimo per 3, 6, 9, 12, un bel per 4, direi che è un ottimo gain. Ora, non vuoi vendere tutto? Venditi un 20%, recupera il tuo vestimento iniziale e dopodiché il resto lo puoi anche lasciare correre, può essere un approccio. Io preferisco vendere sia nella fase a rialzo che nella fase a ribasso, ok, di un movimento fondamentalmente. Puoi applicarlo anche qui, ok, puoi applicarlo anche qui, poi dipende il perché sei entrato a 3 centesimi, però un po' di gain sicuramente fa sempre bene prenderlo, ragazzi, sempre bene prenderlo. Se per assurdo il fondatore di Bitcoin rivelasse la sua identità, cosa potrebbe succedere? Bisogna capire chi è il fondatore di Bitcoin prima. Ciao, grazie per i tuoi contenuti, credi che... Ah, no, beh, qua siamo tornati indietro. Ragazzi, cioè, io adesso ve lo dico, faccio un appello a Streamlabs per Mac. No, non funziona, mi continua a andare su e giù con le chat e mi perdo, quindi mi perdonerete se non riesco a rispondere a tutti, cerco di rispondere a tutti. Grazie 1983 per il Prime, grazie Corlex per il Prime. Vediamo un po'. Ottimo Bitmax per lo staking, compound automatico, sì, attenzione sempre però a detenere i vostri token all'interno di questi exchange, perché io preferisco utilizzarli più per il servizio, poi mi porto fuori i fondi. Vediamo un po'. Una live dopo le 21 è un po' complessa, vediamo un po' quando riusciamo a farla, eventualmente dopo le 21. Dove si può mettere dot in staking? Allora, dot in staking, ragazzi, non vorrei dirvi una cosa perché non l'ho ancora testato, però Ledger, se voi avete un Ledger, su Ledger Live oggi è uscito l'aggiornamento, ok, mi è arrivata la mail prima, che appunto supporta Polkadot, quindi trovate anche su Ledger Live Polkadot, potete farvi il vostro account col vostro indirizzo, quindi mandare i dot direttamente da Ledger Live e metterli in stakes con Ledger, quindi vi dà anche una mano Ledger. Ora non so bene come l'abbiamo strutturata, come funzioni, come funzionino i vari pool, però è interessante perché anche su Ledger potete fare il vostro stake, che secondo me è un po' più guidato, soprattutto per quelli nuovi, ok, perché appunto è un po' complesso Polkadot.js, ci vogliono delle conoscenze anche sui validatori, ora non so come ragioni Ledger, non so su cosa vada a delegare, però quindi attenzione non l'ho ancora provato, non l'ho ancora visto bene, però c'è anche questa possibilità qua, quindi interessante per chi ha Ledger. Vediamo un po', vediamo un po', cilis, cilis, l'abbiamo detto. Come mai nessun'Italia parla di yield, di just liquidity, API del 200%, stava a 30 dollari un mese fa, era a 200 dollari supportata da BSC, perché personalmente non lo conosco, io ti dico la verità, quindi per quello non te ne parlo, ci sono migliaia di progetti, io prefisco concentrarmi su quelli che seguo personalmente, perché appunto mi piace fare poche cose, ma fatte bene, io personalmente parlo per me, quindi non lo conosco, però si può approfondire assolutamente. C'è Emiliano ha preso Staffy a 90 cent, puoi dare un occhio al grafico, è stato listato da poco su Binance. Eh, lo so che Staffy è stato listato, poteva andare bene, no, non credo sia ancora listato su Binance, dovrebbero listarlo a breve, sull'Innovation Zone, avevo visto. Sì, è ovvio, avete queste news, avete questi pump esagerati. Ora, Staffy è un progettino carino, interessante, per quanto riguarda appunto Polkadot, sicuramente, avete delle buone situazioni, prendetele sempre comunque come token, veramente piccolini, dove non potete permettervi di dare troppo capitale, state veramente attenti quando lo utilizzate, però può essere interessante anche Staffy, assolutamente, assolutamente. Link, Link, non abbiamo parlato di Link, dai, diamo un'occhiatina anche a Link, ci sono ancora 5 minuti, facciamo un'oretta, Link, in realtà, con formazione molto, molto interessante, perché come, come avete visto, siamo, abbiamo fatto un bel uptrend su Link, ok, chiaramente, lo potete tracciare, tranquillamente, ora, vabbè, lasciate perdere che è un po' storta, però, il concetto è quello, abbiamo, l'abbiamo persa, e quando perdete, con un dump molto importante, lo scenario migliore, qual è? ormai lo sapete d'equilibrio, quindi, pum, pum, non riuscite a rompere a rialzo, questo non riuscite a farlo, quindi, fate questo, questo, cercate un lower eye, ok, e poi andate a stringervi, quindi, lo scenario è che non andate a fare un minimo, un minimo superiore rispetto al precedente, e poi vediamo da che parte va, però, diciamo che un po' tutto sta guidando Bitcoin, per quello mi focalizzo tanto su Bitcoin, perché è un po' quello che sta guidando un po' il mercato, la dominance è ferma, perché le alz stanno proprio andando, a seguire a traccia ruota Bitcoin, quindi, è lui che si gioca la partita, ed è lui che può dare continuità al movimento rialzista, hai mai comprato i drop di Nifty Gateway, o comunque NFT? ma io forse ne ho uno di NFT, non so neanche bene, l'avevo comprato tanto tempo fa, ma una roba da 5 dollari per provare, ma niente di che, però personalmente, no, non sono un appassionato d'arte fondamentalmente, quindi, e come vi dicevo prima, non sono uno che personalmente gli piace cose poco liquide, quindi gli NFT sono poco liquidi per definizione, e quindi per il momento non mi espongo a qualcosa che non tratto bene, ok? perché ovviamente è un investimento, no, però di NFT, sì, più che NFT, avevo preso tre axi, per di axi, per giocare l'area, vedere un po' come funzionava, perché ero interessato più che altro al giochino su blockchain, ma così per la curiosità personale, quindi quello è un NFT, quindi sì, forse, sì, ne ho un NFT, ho quei tre axi, volevo comprare qualche cyber crypto punk, ma non ce ne sono, a meno di due o tre cap, eh, per forza, sono i primi, sono i primi che, che valgono di più, perché sono quelli appunto un po' simbolo degli NFT, c'è Emiliano, su npxs, sai darmi info, è un progetto dove c'è dentro anche Samsung, no, non so darti informazioni, estrema attenzione quando leggete c'è dentro Samsung, c'è dentro Amazon, c'è dentro, ne avevamo già parlato di questa cosa, molti progetti, ora magari non è questo il caso, però parlo in generale, molti progetti hanno, buttano nomi importanti, parlandovi di collaborazioni, che in realtà non sono collaborazioni, sono magari loro che pagano Samsung, o pagano Amazon per avere un servizio per la loro azienda, e dicono, eh, ma noi collaboriamo con Samsung, o collaboriamo con Amazon, sì, ma con Amazon ci paghi Amazon Web Service, cioè, magari l'infrastruttura, ok, ce la paghi te ad Amazon, quindi, attenzione quando vi mettono quei nomi lì, perché al 99% sono, per farvi hype e basta, e se devono usare questi nomi per farvi hype, quando non sono reali, tra virgolette, vi faccio capire quanto effettivamente ci sia sotto, concretamente, del progetto, c'è Emiliano, ci puoi spiegare cosa c'è dietro le shadow enormi, come quella appena comparsa su Riffa, le 19.35, vediamo che è successo su Riffa, le 19.35, facciamo sul 30 minuti, così, vediamo, oddio, ogni volta, 19.35, la shadow enormi non ne vedo, vedo più che altro che c'è stata una correzione, ma le correzioni ci sono, perché ovviamente ci sono dei sell off, poi anche programmati, in questo caso, ti dico la verità, secondo me, stanno un po' seguendo Bitcoin, in questo momento, sta perdendo questa trendline, qui abbiamo testato 1, 2, 3, 4, abbiamo avuto una continuazione bearish, volumi anche neanche troppo elevati, ma appunto stiamo consolidando, mi piacerebbe che non arrivassimo a toccare questi livelli qua, ovviamente questo potrebbe essere il prossimo livello di supporto, sui 47.5, ok? Io ragazzi, detto ciò, mi fermerei qua, ok? Perché comunque abbiamo fatto un'oretta, spero che appunto questi contenuti vi possano piacere, come sempre la trovate questa diretta indifferita su YouTube, come sempre vi invito a mettere un bel mi piace, trovate sotto in descrizione ai video il profilo Instagram, il profilo appunto dei vari social, trovate anche qualche ref, adesso che mi avete chiesto qualche refer al link, lo trovate anche qui sotto in descrizione, se volete, sono tutte cose che potete contribuire in maniera ovviamente gratuita, alla crescita di questo canale, di questi contenuti, mettete sempre un bel mi piace, quindi andate su YouTube, mi raccomando un bel mi piace, mi aiutate tanto con l'algoritmo, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!